Yeah! Ciao ragazzoni, sono qua in Cittadella dei Giovani con Nunzio Street Child, Sago MC per fare un annuncio spettaculare. In The Place to Be, siamo ancora qui, Nunzio, dilla tu la novità. Mercoledì, 21 febbraio, alle 21 in Cittadella dei Giovani, Blazed Imperor sarà da Osta per la prima volta direttamente da Auckland alla Nuova Zelanda, non mancate. Live special e come al solito, prima del suo live, una caterva di eventi che per ora sono ancora una sorpresa. Bella! Gio Gio Gio!